Il Covid-19 non è scomparso. Nella regione dell'OMS Europa, che comprende 53 stati membri di Europa e Asia Centrale, la percentuale di pazienti con malattie respiratorie e risultati positivi al test Covid nelle reti delle cure primarie è aumentata di 5 volte nelle ultime 8 settimane e il numero di ricoveri ospedalieri nelle ultime 4 settimane nell'area è del 51% più alto rispetto alle 4 settimane precedenti. Lo riferisce il direttore dell'ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa. Quanto ai morti riportati nelle ultime 4 settimane, il dato è del 32% più alto rispetto alle 4 settimane precedenti. Non è allarmismo, ma il compito dell'OMS è quello di aiutare e proteggere la salute e il benessere attraverso consigli tempestivi a governi e cittadini. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a preoccuparsi per il contagio, per il rischio di forme gravi, dovrebbero essere le persone anziane o immunodepresse, le persone con più patologie preesistenti, le donne incinte, il personale sanitario che potrebbe essere facilmente esposto nei propri ambienti di lavoro. Alla luce dei dati che documentano l'aumento dei casi in Europa, l'OMS ricorda che gli strumenti per ridurre il rischio di malattia grave ci sono, rimanere aggiornati con le vaccinazioni Covid, garantire un rapido accesso al trattamento antivirale per le persone ad alto rischio, adottare precauzioni sensate tra cui indossare dispositivi di protezione per le persone particolarmente vulnerabili in spazi chiusi affollati con un'apposita mascherina monouso respiratoria, tenersi lontani dagli altri se si affetti da Covid o si sospetta di esserlo, adottare precauzioni se si deve interagire con persone che hanno o si sospetta abbiano contratto il Covid, lavarsi regolarmente le mani, misura di controllo delle infezioni veramente efficace. Tutti coloro che sono ad alto rischio di gravi conseguenze da Covid dovrebbero sottoporsi a un vaccino aggiornato ogni anno. Inoltre, coloro che sono ad altissimo rischio, compresi gli anziani e le persone immunodepresse, dovrebbero sottoporsi a un vaccino aggiornato ogni sei mesi. I vaccini salvano vite, conclude il direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa.